63 due terza mi arriva ancora a 15 finisce capito lo sai chi l'ha taggata buone maniere sua maestà desidera per sua figlia devo dirti che ho capito quello che tu volevi ora mai più sto ma come mangi perché non ne sei mangiato quando mangi il su ti deve scendere ma è abusivo 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 autorizzato però